Dalla redazione di Flores Multimedia Mauro Ciutini in studio partiamo con l'A1 code per un chilometro ci sono lavori tra Ponte della Ovest Ponsacco e lo svincolo di Gello in direzione di Livorno sempre in A1 un veicolo in avaria al centro intermodale Ovest in direzione Firenze perdita di carico tra Empoli ed Empoli Ovest in direzione questa volta di Livorno altra perdita di materiali sulla A1 il traffico è rallentato tra Valdichiana e Fabro in direzione di Roma lavori di manutenzione invece sulla statale 1 Aurelia il tratto interessato Grosseto Sud e Fonte Blanda in direzione dell'incrocio con Roma in chiusura ricordo che stanotte in A11 per lavori dalle 22 alle 6 sarà chiuso l'allacciamento con l'A1 per chi proviene da Pisa è tutto, muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Buon viaggio!